Bene, buongiorno e benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi 27 febbraio. Perché ho scritto dicembre? Nei miei appunti ho scritto dicembre, penso di tornare un mese indietro e di ringiovanirmi di un mese. La vicenda fondamentale di oggi è Salvini sostiene Di Maio, cioè si parla di questioni politiche. Salvini, forte delle sue vittorie in Abruzzo, in Sardegna, e Di Maio, debole delle sue sconfitte, insomma avrebbe un problema Di Maio all'interno del suo partito e Salvini gli darebbe una mano, come? Evitando di gettare benzina sul fuoco. Ad esempio, come nota Laura Cesaretti, molto informata oggi sul giornale, cosa fa? Rinvia un disegno di legge, quello che sarebbe dovuto comparire oggi e iniziare a discutersi oggi, mi sembra, alla Camera sulla legittima difesa, che avrebbe potuto comportare per il momento 5 Stelle qualche problema, come si suol dire, a sinistra. Il piano di Salvini invece è quello che ci raccontano i giornali, sarebbe quello di dire addio a Berlusconi, sa che scoperta, l'avrà detto cento volte da noi che non vuole più ritornare in quella maggioranza, ma proverebbe secondo Repubblica ad aprire un colloquio con una parte dei berlusconiani, cioè con Toti e con la Meloni, la famosa seconda gamba di cui una volta chiese anch'io a Salvini, lui non mi rispose. Cerasa sostiene una cosa da un punto di vista completamente diverso, e cioè che ha anche il suo senso, e dice a Berlusconi, mollalo Salvini, non si riesce a capire per quale motivo ci sta in mezzo, dandogli la possibilità di avere un secondo forno. Ma la cosa fondamentale non è tanto in retroscena su Salvini, ma sono le cose effettive che sono avvenute all'interno, buongiorno Gio, le cose che, Andrea Palazzo, buongiorno, sei appena entrato, le cose vere che sono intervenute all'interno del Movimento 5 Stelle. La sua organizzazione in termini di partito, non ci raccontiamo balle, perché quando fai una segreteria di 10 persone stai facendo un partito. 10 persone, sembra il consiglio nazionale di un partito, no? Un direttivo come quello che c'era il Partito Liberale con Altissimo, questo sembrano un direttivo di 10 persone. E poi soprattutto ribadisce oggi Di Maio, guardate che io resto il capo politico per 4 anni, uno ne ho già fatto, altri 4 ce no, alcuni retroscena direbbero altri 10. Ma la cosa fondamentale che è successa ieri e che oggi i giornali ci ricordano è che il Movimento 5 Stelle abbandona la regola aurea, non è più quella dell'essere indagati e quindi ti devi dimettere perché questa l'hanno già abbandonata, ma del doppio bandato, del professionismo della politica, dei ragazzi che si dedicano al bene del paese, un po' anche Berlusconi ci aveva fatto due palle così sul fatto che i professionisti della politica erano quelli che lui odiava e poi sono diventati tutti i professionisti quelli che lui ha fatto eleggere, compreso Berlusconi stesso che è diventato professionista della politica. Ma anche il Movimento 5 Stelle ci ricade, dicevano che erano due i mandati massimi, era una minchiata ovviamente perché quando uno inizia a capire come funziona la politica ti devi dimettere e capiscono che non funzionano più. Questo limite, parte, questo limite dei due mandati per i consiglieri comunali, per gli enti locali, vedrete, andrà a finire anche per Di Maio e i parlamentari alla Di Maio. Tra l'altro dicono che è finito il tabù delle alleanze e cioè che nelle elezioni locali si potranno alleare con le liste civiche. E qui c'è una contraddizione mostruosa. Il primo, tu mi devi spiegare che tipo di tabù hai rotto. Se già fai un governo con il tuo nemico carissimo, cioè la Lega con la quale ti sei dato un fracco di botte durante la campagna di rata, ci fai un governo, figuratevi un po' voi quale minore imbarazzo ci deve essere nell'allearsi con liste civiche locali. E poi loro dicono hanno vinto in Sardegna in Abruzzo perché si sono alleati con queste liste locali civetta. E beh, invece di criticare loro perché l'hanno fatto e adeguate il vostro statuto per fare la stessa cosa. Mi sembra una cosa da matti. Non da matti, quanto ovviamente mi sembra quello che scrive oggi Travaglio che in soccorso giallo spiega che, ve la reggo esattamente, nel fare cose giuste i grillotti si perdono voti, mentre quelli che non fanno alcunché li guadagnano, come nel caso di Salvini. E su questo diciamo un giudizio di valore. Ma la cosa fondamentale, incredibile, sapete cosa dice Travaglio? Proprio Travaglio dice che Movimento 5 Stelle perde voti nonostante faccia delle cose giustissie perché non li sa comunicare. Non sa comunicare! Il giornale che più comunica di loro. I TG sono come sempre avviene. I TG della RAI quando cambia un potere, un potente, diventano amici del potente. Ci hanno spiegato che è il primo partito in Sardegna. Ma che state dicendo quando dite non sappiamo comunicare l'inizio della fine? E gli strilloni dei partiti purtroppo queste cose iniziano a farlo, come nel caso di Travaglio. Tra l'altro non sanno comunicare proprio nel giorno. Fai il fondo per difendere il Movimento 5 Stelle che non sa comunicare proprio nel giorno in cui c'è uno scandalo che forse, se fosse avvenuto a uno di Forza Italia, probabilmente l'avrebbero linciato tutti i giornali. La Presidente della Commissione Giustizia, non la Presidente della Cooperativa della Val Sugana, la Presidente della Commissione Giustizia, la signora Giulia Sarti, che non aveva dato 23 mila euro di rimborsi elettorali al suo partito, voglio dire questa è una regola privatistica, cioè il Movimento 5 Stelle dice ai propri eletti dovete ridare parte del vostro stipendio. Lei non gliel'aveva dati, quindi sono affari loro, io non sono neanche tanto sconvolto, non è questo che mi sconvolge. Il partito l'avrebbe dovuto espellere, come ha fatto con altri, e non candidarla. Invece la candidata, era un'inchiesta della Iene che fece vedere che queste cose non avvenivano, la candidata, non solo la candidata, ma l'ha resa anche Presidente della Commissione Giustizia. Si scopre che lei si era difesa dicendo questi soldi in realtà non li ho versati perché se li ha fottuti il mio fidanzato rumeno. Il suo fidanzato rumeno, quando ha visto questa cosa, l'ha denunciata, ha detto ma come ti permette di dire che io ti ho fottuto dei soldi? In realtà sei tu che non hai pagato quei soldi al partito perché te li sei magnati, te li sei magnati Giulia Sarti, come è normale che sia, uno stipendio uno se lo magna, e la signora Sarti si è magnata il suo stipendio, solo che nell'ipocrisia di merda di questi grillini, invece di dire scusate me ne sono magnati, non mi candido più, non condivido più questa linea del Movimento 5 Stelle e sapete che fa? Denuncia il suo fidanzato. Cosa succede ieri? Che le Iene, per una volta sacro santa questa battaglia delle Iene, Filippo Roma, vanno da loro e gli dicono scusami guarda che noi abbiamo le intercettazioni, le intercettazioni Whatsapp che sono quelle che il fidanzato rumeno fa pubblicare perché le dà al magistrato, perché lui viene denunciato per essersi appropriato di quei soldi, allora vado al magistrato e gli fa vedere Whatsapp, ecco qua il mio Whatsapp di Giulia Sarti, Presidente della Commissione Giustizia, la signora Sarti mi denuncia perché c'è scritto, oh me devo salvare la faccia, perché me l'hanno consigliato Casalino e la Loquenzi che sono i due dell'ufficio stampa, cioè i due dell'ufficio stampa prima della candidatura, le dicono denuncia il suo fidanzato che è stato lui a non restituire i soldi e non te, così ti candidiamo e poi tra l'altro diventi Presidente della Commissione Giustizia. La cosa grave non è che lei non abbia restituito i soldi che erano suoi ed è un contratto interno che li ridia o non li ridia il partito, ma che questi denuncino una persona per salvarsi il culo, ma vi sembra normale, lo denunciano e sono talmente cretini che oltre a denunciarli gli scrivono Whatsapp, scusami ti sto a denunciare per salvarmi la faccia, va bene? Ma vi sembra, ma vi sembra una cosa che tu, questo è Presidente della Commissione Giustizia, non ha rubato, per me non li ha rubati questi rimborsi, perché sono affari d'oro, ma è, voi possiamo affidare a una che fa una falsa denuncia, una falsa denuncia? La Presidenza della Commissione Giustizia si è autosospesa ieri e quindi adesso ci saranno soliti deficienti, dei grillini che arriveranno qua, ma almeno lei si è autosospesa, non so, Previti no, oppure Belzebù invece sta ancora all'inferno, è una minchiata, io mi occupo di quello che sta avvenendo, il Presidente della Commissione, oggi Giustizia, ha fatto una falsa denuncia per salvarsi il posto di lavoro, cioè quello di parlamentare, e questo Movimento 5 Stelle? Beh, io penso di no, ma con questa dovrebbe andare via al volissimo, bellissima l'inchiesta del Corriere della Sera, sono due pagine stupende che sembrano la sceneggiatura di Breaking Bad, quel film che avete visto in varie serie in cui il professore diventava un cuoco di ecstasi, di metanfetamine, beh, insomma ci raccontano questo paese stupendo, favoloso, di Maastricht, dell'Olanda, eccetera, che è diventato una specie di suburra o gomorra come preferite della produzione di ecstasi. Bellissimo il pezzo su Italia Oggi che vi segnalo, ve l'ho detto, di Max Papa, del Papa sul catastrofismo ambientale e su come è cambiata la sua percezione e sulla sua follia. Il nonno che viene ucciso dal nipote a Rozzà, perché aveva, si presume, avesse violentato o abusato sessualmente la nipotina e il papà di questa bambina prende e gli spara cinque colpi in testa e lo ammazza a Rozzano. Ecco, vedete, questa è la differenza, secondo me, tra la legittima difesa e il tentato omicidio, cioè se tu vai a cercare l'indagato per l'abuso sessuale, che è una cosa gravissima, mi rendo conto e lo ammazzi, quello è un po' a freddo dopo sei mesi, dopo un anno, e quello forse non è certamente eccesso di legittima difesa, non è legittima difesa, ma se tu vieni, come nel caso l'imprenditore piacentino, nel mio recinto, nella mia casa e prendi e ti becco là dentro, se parte un colpo perché sono caduto, lì non c'è un tentato omicidio. Chiaro? Non c'è nessun tentato omicidio. Purtroppo è in galera, mentre i suoi rapinatori sono lì che si stanno costituendo parte civile. Direi che per oggi è tutto, ci sono un sacco di cose oggi sul sito nicolaporro.it, guardatevele perché la giornata è calda e tra poco arriva anche un ottimo Gervasoni che ci spiegherà tutto sull'esame di storia. Ciao!